L'incerto panorama L'incerto panorama politico alla ripresa dell'attività dopo la pausa estiva e questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Enzo Amendola, segretario regionale del Partito Democratico. Un centrodestra in cerca d'autore, un centrosinistra dilaniato. Sembra una maledizione per la sinistra l'essere divisa. No, non siamo divisi. Noi ci troviamo di fronte a un passaggio complicato della storia di questo paese e del mezzogiorno e della Campania. Quindi mettiamo in ordine i temi. La priorità oggi è difendere il lavoro, posti di lavoro, costruire delle possibilità di progresso, di crescita. Quindi spostare delle risorse da dove non servono, dove c'è clientelismo, dove c'è burocrazia, a chi invece vuole fare lavoro, vuole tornare a crescere. Se noi guardiamo l'agenda in questo modo forse capiamo meglio la politica. Se la guardiamo con le diatribe dei giornali, dei personaggi, certo la politica non dà un bello spettacolo. Noi come Partito Democratico mettiamo al centro i temi centrali dei cittadini, al centro lavoro, dignità e possibilità di uscire dalla crisi economica. Tutto il resto non ci interessa e ci misuriamo col centro-destra su questo. Il problema è che non abbiamo proposti dal centro-destra su cui sfidare in Consiglio regionale o nelle altre assemblee. L'eclissi, il tramonto del centro-destra però ha creato dei problemi. Tra non molto bisognerà votare probabilmente in primavera e comunque il discorso delle alleanze diventa fondamentale. Sì ma il centro-destra chi è in Campania? Noi ce lo chiediamo perché c'è una giunta caldoro lentissima che non prende decisioni, che ci mette una vita per discutere delle cose fondamentali. Noi sono oramai quattro mesi che diciamo alla giunta caldoro che c'è quasi un miliardo di fondi europei non ancora destinati. Gliel'ha detto anche il ministro Barca di muoversi a utilizzare in una fase di crisi un miliardo di fondi europei. Abbiamo chiesto un consiglio straordinario, abbiamo chiesto riunioni, mai risposto. E poi c'è la politica del centro-destra che è il PDL, non li troviamo. A volte non riusciamo manca a capire chi sono i loro leader. Sullo sfondo campeggia l'immagine di Beppe Grillo. Una minaggia per i maggiori partiti e forse anche per le forze medie. Beppe Grillo con il suo movimento ha un'idea di politica abbastanza chiara. Lui è contro qualsiasi rapporto tra partiti, sindacati, associazioni e cittadini. Lui è per un'idea di iperdemocrazia, per lui i cittadini prima di tutto. In alcuni casi ha vinto, come a Parma per esempio, dove c'è un sindaco eletto al suo movimento che ci ha messo due o tre mesi per fare una giunta e ancora non ha fatto una delibera per la città. Io non demonizzo mai nessuno, però è evidente che governare le istituzioni ha bisogno non solo di partiti, associazioni, movimenti, ha bisogno anche di un po' di serietà e di poche battute di spirito. Come superare quel senso di stanchezza degli elettori verso la politica in generale? Quel senso di stanchezza è giusto perché la politica, travolta dalla crisi economica, ha mostrato le sue debolezze. C'è una politica chiacchierona, demagogica, tanti verbi, aggettivi, sostantivi di cui nessuno ha capito mai il significato. Noi come Partito Democratico, in maniera anche umile e seria, stiamo dicendo al centro i problemi. E la politica si misura sui problemi, sul lavoro. Come fare in Campania oggi a dare un po' di ossigeno alle imprese che vogliono resistere, al mondo del commercio, al mondo dell'artigianato. Misuriamoci su questo. Poi dopo viene tutte le chiacchiere, tutte le demagogie rivoluzionarie che in questi giorni e in questi mesi abbiamo sentito, che sono il vero problema che hanno allontanato i cittadini da quella che è la cosa pubblica. Frequentemente si sente parlare di moderati, di una nuova area di moderati, quasi come se gli altri partiti, le altre forze politiche fossero composte da scalmanati. Poi in Italia in sostanza un solo scalmanato c'è, Berlusconi a mio avviso, gli altri sembrano tranquilli. Ecco, i moderati, il ruolo dei moderati. Ma ha ancora senso parlare di moderati come ha ancora senso parlare di destra e di sinistra? Ma ha senso parlare di grandi divisioni. Noi siamo un campo progressista, pensiamo sempre al progresso che possa portare più eguaglianza, giustizia e anche libertà per i cittadini. C'è un altro campo che è quello conservatore, che in Europa ha le facce della Merkel, la faccia per fortuna sconfitta di Sarkozy, aveva la faccia italiana di Berlusconi, che pensava a un'altra idea di società innanzitutto. Quindi grandi distinzioni ci sono. In Italia, certo, la parola moderata viene abusata, perché i moderati poi alla fine, al momento di scegliere, non è che scelgono i partiti moderati, scelgono le posizioni che più danno un senso di prospettiva alla società, di forza. Quindi ci possono essere candidati anche che non vengono dal mondo moderato, che conquistano un elettorato. Io credo che la grande confusione che c'è stata in Italia negli ultimi mesi e anni è troppe parole, troppe sigle, troppe confusioni che parlavano di un altro mondo che non era quello della società e dei suoi bisogni. Questa crisi economica drammatica ha dimostrato che o i partiti si mettono all'altezza degli occhi dei cittadini e parlano giorno per giorno di quelli che sono i problemi, dalla sanità ai trasporti fino al mondo del lavoro e allora recuperano anche una forza, recuperano anche un'essenza per quelli che sono gli ideali e i valori. Tutto il resto era un enorme fumo che abbiamo visto in questi anni. Berlusconi, figurarsi, è stato il grande dispensatore di fumo che alla prova dei fatti è svanito. Ecco Paolo Cilino Pomicino più volte ha sostenuto che per superare l'impasse della politica bisogna rispolverare le culture tradizionali delle forze politiche. Lui ha ragione che la politica senza grandi valori ideali non esiste. Il problema suo è che le culture tradizionali del secolo scorso vanno rispettate, vanno discusse ma non sono sufficienti per dare una risposta alla crisi del nuovo mondo. Noi ci troviamo in questo secolo a competere con grandi potenze. Questa è una crisi economica che non è solo italiana, è una crisi dell'Europa, del rapporto con l'Asia che cresce e produce e costa dal punto di vista del lavoro meno dell'Europa, degli Stati Uniti in recessione, di un nuovo mondo che si sta muovendo. Rispetto a queste nuove sfide non è che possiamo parlare il linguaggio del secolo scorso pensando che sia solo un problema italiano. Per esempio noi come PD stiamo unendo il fronte progressista europeo perché dopo i disastri della Merkel, di Sarkozy e di Berlusconi pensiamo che un'unione dei progressisti non solo in Italia ma a livello europeo possa cambiare la direzione economica, sociale, in termini anche di lotta alle diseguaglianze che per tanto tempo non sono state affrontate. Ecco gli anni per quanti svolgono attività politica come per quanti insegnano non iniziano il primo gennaio ma iniziano alla ripresa dell'attività autunnale e terminano con la pausa estiva. Ecco siamo all'inizio del nuovo anno, quale è la priorità principale per la campagna? Per il Partito Democratico noi facciamo sempre un discorso molto semplice in questi tre anni di consigliatura ci siamo distinti per serietà sulle proposte poca demagogia perché la demagogia in questo periodo non aiuta nemmeno i cittadini che sono in sofferenza hanno bisogno di chi strilla, di chi alza le bandiere e molta responsabilità su tutti i problemi principali se c'è un'azienda che chiude, se c'è una società mista in difficoltà il Partito Democratico vuole caratterizzarsi non per il chiasso ma per la proposta perché così saremo anche più forti con i cittadini che non vivono una grande fiducia verso la politica più noi siamo bravi a dare proposte e non fare solo protesta più la politica può ritrovare una forza. Ecco i rapporti in Campania con i possibili alleati SEL e UDC Per noi i rapporti partono sempre dai programmi la serietà che la politica deve reconquistare sta nei programmi, nelle cose nelle cose concrete, la vita di ogni giorno, come far funzionare il sistema di trasporti campano come evitare che si chiudano le aziende municipali, come si riorganizza la sanità per cacciare un po' di politica dalla gestione noi ci vogliamo misurare su questo e gli alleati li troviamo su questo perché è evidente che chi ha un'idea vecchia della politica o meglio di continuare con i vecchi clientelismi, conservatorismi, autoblu non saranno mai i nostri alleati Bene, buon lavoro a voi tutti grazie per la cortese attenzione Taquino politico della Campania come sempre tornerà domani alla stessa ora